Buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV per la nostra vostra rassegna stampa che ci seguiate dalle 6.45 del mattino ebbene sì anche di venerdì, fa anche rima, che lo facciate nella versione della riproposizione delle 13.30 o delle 14.30 con il succo concentrato delle notizie, che lo facciate tra le 18 e le 19 nella versione legata al buongiorno e buonasera, che non lo facciate mai, che lo facciate poco, insomma grazie anche per un solo minuto di condivisione del buongiorno e TV che senza di voi non ci sarebbe più, altra rima. Margherita, buongiorno, Giorgio Bruscia, buongiorno, Amarotta 13 gradi e buona primavera, grazie all'amico Giorgio Damarotta 13 gradi, così capiamo subito l'aria che tira. A Castelfidardo, Cara Patrizia, grazie, Nuvolo e 9 gradi, Nuvolo è un'espressione tipica delle nostre parti, anche a Chiaravalle, grazie a Anna Maria Ciaramicoli 9 gradi. Insomma siamo di fronte ad un carnevale un po' sui generis, ogni scherzo vale ma questa del caldo ci colpisce, anche se questo caldo è destinato a levare le tende nel giro, se non tanto il caldo il cielo sereno, perché domani vi confermo dovrebbe piovere, pioggia debole prevista su tutte le Marche, anche in quella macerata dove, vi raccontavamo poc'anzi, domani si celebrerà il carnevale cinese, nel contesto di tante altre iniziative carnascialesche che stanno caratterizzando in questi giorni la regione Marche. Pronti a partire o a ripartire, a seconda appunto dell'orario in cui usufruite del nostro programma? Ero qua in sospeso con questa notizia che è l'apertura dell'edizione online del Corriere. Si torna su Giovanni Allevi, le sue parole che hanno davvero toccato il cuore degli italiani, c'è la preoccupazione del papà, il papà di Allevi che dice Figlio mio, che paura ai concerti, sappiamo quanto soffre. Suonare, muoversi provocano sofferenza in Giovanni Allevi, ma la voglia di condividere la sua musica è più forte di tutto. Assist di Polonara all'emozione di Allevi, vorrei abbracciarlo. Achille Polonara, campione di pallacanestro, che pure lui ha vissuto il dramma del tumore. Altra notizia che trovate sulla edizione online del Corriere Ancona. Le tolgono i figli, fa un sit-in abusivo e poi una mamma sferra gomitate agli agenti. La disperazione declinata in violenza, l'angoscia di una mamma a cui erano appena stati tolti i figli. 3493918169, un altro titolo di cronaca. Suocera con la droga in carcere. Le indagini incastrano il genero nel turbino in casa, trovati due chili di droga. Una storia quella che vi abbiamo raccontato già qualche ora fa, con questa suocera coinvolta in questo giro pare di sostanze stupefacenti. Quindi approfondiremo. Ora i giornali. Torniamo sulla carta stampata, quello che trovate oggi in edicola, passando come sempre dai messaggi. Pronta l'edizione di macerata del Corriere, ma prima, eccolo qua. Da Via Crivelli, l'alba di Via Crivelli, siamo nel cuore di Ancona, Robi e Lallo. Buongiorno. C'è tra l'altro proprio sul cuore di Ancona, e quindi sugli affitti per gli studenti, oggi una polemica importante, gli studenti che si lamentano ad Ancona. Addirittura anche 400 euro per una stanza. Guardate un po'. Una stanza ad Ancona a peso d'oro si paga fino a 400 euro e in periferia mancano i bus. Ma approfondiremo pure questo. Ecco invece il cuore di Marzocca, questa bellissima alba. Insomma, abbiamo capito che piuttosto che seguire il programma Buongiorno TV, o comunque facendolo, a un certo punto buttate l'occhio alla finestra. Godetevi queste luci del giorno che stanno rendendo il mondo un capolavoro. E poi, se volete, tornate pure alle notizie. Ciao Maurizio, buon venerdì da Antonio che ci segue da Ancona. 8 gradi qui al passetto e poi ancora Thank God It's Friday. C'era la canzone di Queen, Thank God It's Christmas, grazie a Dio è Natale. Qui, grazie a Dio è venerdì. Eccole le notizie ora. Macerata e provincia, nuova scuola. Spuntano reperti. Sono stati trovati altri resti di una strada romana alle Vergini, nell'area in cui deve essere realizzato questo megacentro di istruzione. Il Comune affida gli incarichi per gli accertamenti richiesti alla sovrintendenza. Ruspe al lavoro, con attenzione, ma al lavoro, anche per evitare di creare danni ai reperti della strada romana. Allevi che emozione, eccolo qua. Anche il campione di basket, Allevi lo ben sa, ma anche Achille Polonara sa cosa significa affrontare il tumore. Quindi c'è una sorta di feeling tra i due. Polonara vorrebbe incontrare il musicista. In centro torna, eccolo là, capodanno cinese, protagonista domani, spettacoli e stand, tempo permettendo. Gironacci a Civitanova, l'assessore, ex assessore, Silurata. Un altro ricorso contro Ciarapica. Infine, controlli nei cantieri edili, sedici denunce e maxi multe. Raffica di irregolarità, sospese due imprese, violate le norme sulla sicurezza degli operai. Da Macerata ad Ancona, sempre con il Corriere. Poi pronta l'edizione del Carlino. Buongiorno, io passeggio da tre anni, posseggo da tre anni un'auto full electric e ci ho fatto quasi 30.000 km. Da tre anni un'auto full electric, tanto di cappello. È vero, bisogna informarsi bene, ma ti assicuro che non è poi così male. Guarda, ce l'ho pure io, quindi dipende da... Se hai un garage dove ricaricare la sera e la usi per tragitti cittadini e comunque entra un range di 150 km giornalieri, sia in estate che soprattutto in inverno, non hai problemi. Prima di demonizzare una cosa è meglio fare un piccolo sondaggio da chi usa abitualmente l'auto elettrica. Ma ce l'ho, ce l'ho, amico mio Giuliano, ce l'ho la macchina elettrica, quindi lo so. Sicuramente non può essere la prima auto di casa, questo lo confermo. Grazie Giuliano, ma insomma non può essere la prima auto di casa. Devi fare tragitti brevi, devi avere un garage, devi poterla caricare la notte. Insomma sono tante le condizioni per cui adesso viva la natura, viva l'elettrico, è per questo che feci con la mia dolce signora la scelta due anni fa di passare all'elettrico. Ma io devo cercare di dare le notizie in modo serio e attento, dire sì vai con l'elettrico, tutti... No, perché non è una scelta per tutti, il tuo stesso messaggio lo conferma. L'elettrico accelera, questo è il carlino, ma ci arriveremo, autogreen, gli incentivi spingono le vendite. Attenzione però perché non è così facile, non è così scontato, anche perché le colonnine in giro ce ne sono poche, spesso sono rotte. Ci avete segnalato in tanti problemi a Lidl della baracola che è qui proprio a poca distanza, le cui colonnine sono rotte da mesi e non vengano riparate. Insomma non è così semplice. Seconda macchina, prima no, con la necessità di un garage. Insomma il tuo messaggio è molto chiaro. Il rettore, e siamo allora ad Ancona dopo l'edizione per Macerate Provincia del Corriere, servono alloggi. Gregori Striglia è il capoluogo, Ancona maglia nera nelle Marche, evaso appena il 18% delle richieste dei ragazzi. Per una stanza in centro paghiamo anche 400 euro. Questo è lo sfogo di Gulliver. Uccisa dalla pertosse, torniamo sulla piccina, purtroppo vittima di questo terribile male. Più vaccino, meno baci a difesa dei neonati. Questa è la ricetta. Lo so, ci sono quei primi momenti della vita nei quali i parenti da ogni angolo del mondo, isole comprese, ti vengono a casa, te lo vogliono vedere, te lo vogliono tenere in braccio, te lo vogliono baciare e il pupo. Però c'è una fase incipiente della vita nella quale è bene evitare un eccesso di contatti, soprattutto contatti fisici. Lo dice anche l'esperto. Scopre il tradimento e tormenta la rivale, finisce a processo. Cupra Montana, tradito dalla suocera, gli trovano in casa due chili di droga. E questa vi ha fatto molto, molto già, vedo, commentare. Via i figli, lei impazzisce, calci e sputi ai poliziotti. Sitina abusivo della mamma, poi gomitate agli agenti. La donna è stata arrestata in centro. In passato aveva anche, dice il giornale, minacciato dei giudici. Buongiorno da Civitanova. Ci scrive Luana. Luana, più che ci scrive, Luana ci manda una foto stupenda. Devo dire che il cielo oggi ha deciso di vestirsi in stile Sanremo. Una eleganza straordinaria. Questa è Civitanova. Guardate le vele, gli alberi delle navi, delle barche che si trovano al porto turistico di Civitanova. Io cerco sempre di sottolineare, di portarvi su un dettaglio delle foto bellissime che condividete con noi. Perché è il dettaglio che fa la differenza. E le marche sono stupende attraverso i vostri occhi. Confermato il Carnevale Domenica d'Ancona. E poi Ancona-Baracola, 10 gradi, caldo anomalo. Sì, sì, credo che sia confermato. Ripeto, ITV non è coinvolta. Io personalmente non sono coinvolto. Ma il tempo, tra l'altro, dovrebbe essere clemente. Domenica è sabato che la situazione sarà difficile. Buongiorno da Civitanova. Un altro saluto che viene da Civitanova. Lo stesso cielo, la stessa meraviglia. Siamo tutti sotto lo stesso cielo. Occhio a proposito. Siamo sotto lo stesso cielo anche dei truffatori ai quali auguro qualche problema gastrointestinale. Assolutamente sì. Soprattutto chi se la prende con gli anziani. Anziana beffata da un finto carabiniere. Addio pensione. È successo nel Lanconetano. Io perdo anche un po' la voce a volte, ma non mollerò mai. Quando vi si presenta qualcuno con una divisa e fino a lì dobbiamo ascoltare, rispettare, ci mancherebbe altro. Ma quando questa persona vi chiede dei soldi, ecco, quella è la prova provata che non si tratti di un vero poliziotto, di un vero carabiniere. Si tratta di un impostore. Siamo dopo Macerata e dopo Ancona a Pesaro e provincia. Ad Ancona la questione degli alloggi per studenti con affitti monster. A Pesaro il tema degli affitti short, cioè degli affitti brevi. Che business? Per le locazioni mordi e fuggi si calcola un giro d'affari di 10 milioni di euro, un'ulteriore spallata ai contratti invece a lungo termine, due anni più due, tre anni più due. Con la capitale della cultura, tra l'altro, boom di richieste. Caravaccio, siamo ad Urbino, delibera provata senza i rilievi archeologici. A Fano, Rabaschen, una pesarese, ieri nominato il giovedì grasso sindaco per il carnevale. Questa è una piccola grande rivoluzione. La rivalità positiva, per carità, tra Fano e Pesaro è storica e il carnevale conferma appunto che si tratti del momento in cui tutto può accadere e quindi ci sia la sovversione, lo stravolgimento delle consuetudini per cui un pesarese nominato sindaco di Fano. A Cagli, la notizia importante del nuovo ospedale, da 15 milioni di euro arrivate 6 offerte. Abbiamo parlato tanto in questi giorni, per esempio, dell'ospedale di Amandola, l'ospedale dei Sibillini, in arrivo altri 3,2 milioni di euro. L'ospedale di Amandola oramai dovrebbe essere inaugurato a breve. Cotignola 2 intanto è in arrivo, rimane l'ultima tappa, è fatta per la futura clinica privata a Villa Fastigi, lunedì il voto in consiglio per la variante al PRG. Quando ho letto questa notizia qualche minuto fa, ecco vedi molti messaggi, ecco vedi che siamo di fronte a una privatizzazione della sanità, eccetera, eccetera. Le cliniche private non sono da demonizzare a prescindere, sono un supporto importante al sistema sanitario nazionale laddove questo abbia delle lacune. Quindi demonizzare a prioristicamente no, certamente non può derogare del tutto una clinica privata a quello che deve essere il compito di un ospedale. Su questo sono perfettamente d'accordo. Sto cielo rosso, Indostà, buongiorno, grazie. Da dove viene questa foto? C'è il gattino che dice, tutti quanti mandano queste foto belle, di Cieli Rossi, Falconara, Civitanova, Treia, abbiamo visto poco fa Ancona, ma sto gatto no. Da dove ci segue, per esempio, eccolo, il cielo rosso da Civitanova Marche, guardate un po', una bella passeggiata in spiaggia. Queste sono immagini stupende che ci mostrano, tra l'altro, gente che legittimamente si va a godere la passeggiata di prima mattina sul lungomare di Civitanova Marche. Prima di cambiare giornali, buongiorno Maurizio, ti ho girato le immagini di questa notizia sul Carnevale di Fano. Ci scrive l'amico e collega Marco Gasparini, grazie caro Marco. Ogni tanto, oltre all'aerosol, Voxil per la voce. Grazie cara Carla. Ieri ho fatto, come accennavo, l'aerosol, grazie a questa squadra, a questo coordinato composto tra la mia dolce signora e la mia mamma che mi hanno rimesso in funzione la voce. Ieri invece oggi funziona tutto bene o quasi. 349-3918-169. A proposito della vicenda del Salesi, che abbiamo raccontato, mi chiedono di dare ulteriori aggiornamenti rispetto alla storia della piccina. Noi abbiamo ascoltato la voce dei genitori, ieri vi abbiamo mandato anche un servizio, oggi se ne parla sul giornale, Sì, uccisa dalla pertosse, più vaccino e meno baci a difesa dei neonati. Questa cosa dell'evitare, se possibile, la visita ai primi giorni dalla nascita dei piccini può creare anche un pochettino di scoramento. Sul tema invece sanità, e quindi la clinica privata a Cetignola, il discorso del Covid Hospital. Ecco, sul Covid Hospital, cosa farne e cosa non farne, abbiamo un servizio. Il Covid Hospital è una struttura che fu aperta nel 2020 perché la nostra regione aveva una sottodimensione dei reparti di terapia intensiva. Nella classifica nazionale, invito soprattutto i critici ad andare a verificare, eravamo la diciannovesima regione con numero di posti letto di terapia intensiva. Quindi in quel momento la regione ritenne di strutturare questo hub a Civitanova con delle donazioni e penso che sia stata una decisione importante. Quando poi è stata utilizzata quella struttura, alla fine del 2020, io ero già stato nominato assessore, quindi ho deciso io di utilizzare quella struttura, abbiamo constatato come, per aprire il Covid di Civitanova, abbiamo dovuto impiegare il lavoro di anestesisti, internisti, pneumologi che venivano da Urbino, da Pesaro, da Ancona, da Macerata e da tutta la regione. Sostanzialmente per tenere in piedi il Covid Hospital di Civitanova abbiamo dovuto diminuire di gran lunga tutta una serie di prestazioni negli altri presidi ospedalieri, aggravando la lista delle liste d'attesa, per cui quando nella seconda ondata si è presentato questo problema non lo abbiamo più utilizzato. Noi l'abbiamo tenuta fino a 5-6 mesi fa a garanzia di un eventuale aggravamento della pandemia. Il fatto che poi le strumentazioni siano state tutte trasferite, ad eccezione della TAC che rimane dentro il Covid Hospital, semplicemente perché per poterla trasferire bisogna blindare la stanza in modo adeguato, perché fa delle radiazioni, e i lavori stanno iniziando in questi giorni. Vorrei ricordare che in questo momento le Marche hanno 256 posti letto di terapia intensiva, all'inizio del 20 ne avevamo 105 posti, eravamo l'ultima regione nella classifica nazionale e quindi in questo momento con una certa sicurezza possiamo garantire lo svuotamento del Covid Hospital. E questo è il punto dell'assessore regionale alla sanità a Saltamartini sulle polemiche legate alla Covid Hospital di Civitanova Marche. Stamattina buongiorno di fuoco, ciao da Roberto, anche Roberto ci segue mi pare dalle parti di Ancona, vedo il promontorio, la schiena del promontorio del Conoro. Davia Martiri, altra foto da Ancona, stupenda, guardate un po', perché il dettaglio, come sempre, che fa la differenza, ha beccato pure il gabbiano. Davia Martiri, da Ancona, il nostro amico ha pizzicato il volo del gabbiano. Rosso di mattina, il maltempo si avvicina, ci scrive Luana da Montemarciano, Luana probabilmente hai ragione, perché domani dovrebbe piovere. Buongiorno anche da Castel d'Emilio, eccola là, la mappatura della regione Marche che grazie a voi riusciamo a fare. Questa è Castel d'Emilio, questo è il suo cielo di fuoco. Ascoli e San Benedetto ora con la marcia dei cento trattori. Manifestazione di protesta ieri degli agricoltori da Villa Sant'Antonio fino a Marino del Tronto. Del Sacco mettiamo farro, legumi e polline. I grilli sì, ma solo per allietare le nostre calde e serate. Quindi un no deciso alla farina di grillo. Antonini, assessore regionale tra l'altro con tra le deleghe e anche all'agricoltura ho ricevuto minacce di morte. Ora basta, in questo momento si trova a Roma. Antonini tornerò ad Ascoli e sporgerò denunce. La buona notizia da comunanza si parla di lavoro. Whirlpool, dopo vent'anni tornano le assunzioni a tempo indeterminato. Lo stabilimento di comunanza insieme con quello di Napoli hanno vissuto momenti difficili soprattutto negli anni scorsi. adesso il fatto che si torni ad assumere a tempo indeterminato è davvero qualcosa di importante. Russell Crowe, il gladiatore in maglia bianconera. Ci vediamo l'11 luglio. Lui insiste, ci insiste. Vuole essere considerato un po' anche italiano, mezzo marchigiano. Queste intanto sono alcune immagini proprio della presenza ieri di Russell Crowe al Festival di Sanremo anche un po' preso in giro il buon John Travolta. C'è chi c'ha sonno e chi mente. È una scritta comparsa sulla nave che fa parte della chermesse canora di Sanremo. Controlli e sanzioni intanto a San Benedetto sui dehors irregolari. L'assessore Gabriele gli spiega per noi è giusto punire chi ha pagato la tassa chi non ha pagato la tassa e non ha i requisiti per avere appunto i dehors. Mi fermo con il Corriere sull'edizione del Fermano nuovi fondi per il turismo con un software all'Infopoint Camper fermò ha intercettato un bando importante a Porto San Giorgio l'ex assessore Salvatelli diffamato sui social e allora scattano le condanne poco fa parlavamo dell'assessore regionale Antonini che ha subito minacce di morte e querelerà perché non si può scrivere quello che si vuole sui social network su Facebook su Twitter non si può dire quello è un pezzo di quell'altro è un ladro di là su e giù non si può equivale come se tu lo pubblicassi su un giornale e quindi poi se noi offendiamo qualcuno diamo a qualcuno un comportamento l'attestazione di un comportamento irregolare e poi ne paghiamo noi le conseguenze Porto Sant'Elpidio patto sull'accoglienza nell'ultimo progetto via le famiglie ucraine se ne parla sempre meno della guerra in Ucraina ieri Zelensky ha sostituito il comandante in capo Putin ha rilasciato un'intervista non so se i giornali nazionali ne parlano Putin ha rilasciato un'intervista nella quale ha detto se volete finire con questa guerra dovete smetterla di dare armi all'Ucraina il report intanto a proposito visto che eravamo sul nazionale e internazionale ci restiamo un attimo che imbarazza Biden anziano non ricorda più le cose l'ira del presidente ieri sera ha indetto una conferenza stampa proprio per l'occasione la mia memoria è ok ma in conferenza fa un'altra gaffa aveva confuso qualche giorno fa Biden l'uomo più potente del mondo mica io aveva confuso Mitterrand che ormai è andato sui campi elisi in tutti i sensi visto che a Parigi ci sono gli Champs-Élysées Mitterrand con Macron e pare ieri abbia confuso la Merkel con Helmut Kohl un altro ex statista degli anni 70 e 80 queste le gaff del presidente Biden che preoccupano gli Stati Uniti d'America e dovrebbero preoccupare anche un po' tutti noi maxifurto di telefonini ladri ripresi in un video a Petritoli il titolare ha inseguito i malviventi dopo aver visto appunto il furto in diretta dal cellulare con un sistema telecamerina e app dedicata altri ride ad Altidona e a Magliano di Tenna tema dunque della microcriminalità Carla adesso c'è un'attac che comunque tuttora se non fosse stato per Giulio Silenzi sarebbe stato tutto fermo grazie Carla per la tua segnalazione Carla che ci scrive da Civitanova fa riferimento alla questione del Covid Hospital Mirella buongiorno Rosi buongiorno Marco D'Afano buongiorno un'occhiata ancora alle bellezze dei nostri vostri cieli Castelde Miglio e poi ci tuffiamo era l'ultimo in ordine di tempo e poi ci tuffiamo sulle edizioni del Carlino questa viene invece da Cerretto Desi guardate che gioco di luci e di colori amici amici ci dice Arretto Desi buongiorno si dice rosso di mattina o l'acqua o la brina 11 gradi da Senigallia ci dice Rosi grazie c'è chi ci ha scritto rosso di mattina ma il tempo si avvicina secondo Rosi è rosso di mattina o l'acqua o la brina probabilmente sarà acqua nella giornata acqua acqua nella giornata di domani vi porto ora alle notizie del Carlino e riparto dal pesarese la lirica cantata dal balcone e tranci di pizza Rossini insomma c'è un po' di pesaro a Sanremo la presenza nei dittorni del festival la pizza Rossini mi è stata anche chiesta la ricetta insomma è una margherita adesso se c'è qualche pesarese che segue se sbaglio correggetemi assolutamente però è una bella margherita con uova sode tagliate a fette ma non proprio fine ma anche fette abbastanza importanti messe così belle distribuite sulla pizza margherita e poi soprattutto due o tre giri di maionese ma quella proprio cortubetto messa là vi assicuro che provare per credere ci sta tutto bene nella vecchia scuola 37 appartamenti siamo a Soria la mascarucci comprata dall'imprenditore Enzo Camillini in società con l'azienda Tagliabracci la stretta di mano il saluto il ringraziamento di Matteo Ricci nei confronti di Ario Costa presidente che ha annunciato l'addio grazie Ario ma adesso serve la salvezza studenti da tutta Italia per la sfida di latino gara di traduzioni che si terrà a Pesaro Alma colpo di scena qui siamo a Fano club venduto a guida la svolta che però preoccupa alcuni tifosi dal pesarese all'Anconetano sempre con le edizioni del Carlino è passato già un anno di gestione del direttore Gozzini ospedale di Torrette macchinari obsoleti da cambiare e poi l'altro fronte caldo il caos cantieri che mi preoccupa l'ospedale di Torrette la cittadella sanitaria di Torrette è circondata dai lavori per la nuova morg cioè il nuovo obitorio per la nuova palazzina con gli uffici amministrativi dovrebbe cominciare a breve ufficialmente ebbene il lavoro del cantiere per il nuovo Salesi tutto questo però nel momento nel mentre della operatività dell'ospedale cultura e festival ecco la rivoluzione qui siamo sempre a Dancone il comune vara all'atteso regolamento con la manifestazione di interesse ci sarà più spazio per nuove proposte protesta nella scuola quel progetto non si può fermare c'è il danno erariale l'incontro con il sindaco io avevo promesso che avrei dato grande attenzione a questo tema protesta nella scuola materna il sindaco Silvetti ha incontrato le famiglie che si battono contro il cantiere nel parco dei bimbi sono fondi PNRR ha spiegato il sindaco purtroppo l'abbiamo ereditato dalla vecchia giunta ma troveremo una soluzione parliamo delle famiglie e dei bimbi dei cento bimbi della scuola per l'infanzia Alba Serena di Torrette dopo la richiesta vogliamo ABF è fatta di storie Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma Martina è atelierista digitale aiuta decine di ragazze ad esprimere il proprio potenziale lui